Primo capitolo, verso 27, 10 della lettera ai filippesi, dice così, solo questa prima parte, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, chiamiamo il capo e preghiamo. Gloria al tuo nome Signore, alleluia, Signore ti ringraziamo per questa bella opportunità che ci dà di essere insieme, di godere il benedice della tua salvezza, parla a tutti quanti i nostri, il nostro cuore è così aperto che desidera cibarsi alla fonte autorevole della tua parola. Grazie per Davide, grazie per tutti quelli come lui che sono qui per le prime volte, Signore, sicuramente tu li hai condotti nel luogo giusto, parla al loro cuore, dopo che hai parlato al loro cuore, opera, salva, scrivi loro nomi del libro della vita, affinché possiamo gustare questa potente salvezza. Ringraziamo nei nomi di Gesù, benedetti vederti. Amén. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Certo che, fratelli, questa parola soltanto non sembra metterci in una discussione così anche come voi del Vangelo di Cristo. Solitamente quando noi diciamo in un discorso oltre a persone soltanto, fai soltanto questo, è più per minimizzare quello che deve venire dopo, che per ampliare. questa parola soltanto, a me verrebbe da pensare che è come se a un certo punto l'Apostolo Paolo dicesse ai filippesi, vabbè, insomma, fate solo questo, soltanto questo. Poi, da soltanto vediamo qual è la luce che c'è in lontananza e scopriamo che questo soltanto si tira addosso questa affermazione, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Ho voluto capire oggi come dicio questa parola, comportatevi, è quello che sembrava una esortazione, quello che sembrava, sembra lì per lì quasi un atto di riprovere, comportatevi in modo degno può sembrare, in effetti questa parola mette in evidenza una consolazione meravigliosa, una consolazione che soltanto dal cielo può venire. Ho voluto capire onestamente la parola, il termine originale di comportatevi, se qualcuno di voi aveva dio dati stasera scoprirà che non c'è la parola comportatevi, ma conducetevi, e che è diverso, comportatevi, la dio dati dice, conducetevi. Grazie. 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 Grazie.